15 anni che ricorrono oggi dalla tragedia della Butangas. Vigilio Pavan qui accanto a me era sindaco e ricorda bene purtroppo quel giorno. È un giorno che è impossibile cancellare per come l'abbiamo vissuto. Io stavo a casa, mi stavo prestando a venire in comune, alle 8.07 sento un'esplosione. Non ero in cucina che guarda a nord-est, sono corso alla finestra della Camera, ho visto un fungo grigio, nero, alto. Ho detto la Butangas. Sono arrivato, è stata bloccata tutta la statale castellana, bloccati i treni e si è incominciato a intervenire. Quello che mi colpisce forte ancora oggi e non riesco a cancellare è il volo degli elicotteri. Ancora oggi quando sento un elicottero qualcosa dentro di me si mette in agitazione. C'è stata poi intorno alle 9 una seconda esplosione. Noi che eravamo all'esterno del municipio siamo praticamente quasi stati scaraventati a terra. Quella è stata la peggiore perché poi è partito il coperchio di una cisterna vuota che ha fatto un volo in linea d'aria di oltre 400 metri scavalcando anche la statale. L'eroismo dei visi al fuoco ha fatto sì che si sia continuato per ore e ore a raffreddare i serbatoi che contenono 3.000 metri cubi di gas evitando quella che sarebbe stata un'esplosione e probabilmente la cancellazione di gran parte della popolazione di paese. Noi ci troviamo adesso proprio di fronte al punto in cui c'erano i serbatoi che costituivano questo vero pericolo, addirittura la devastazione di tutta la frazione di paese. Sì, lo vediamo sullo sfondo. Questo era il punto cruciale nodale perché dall'altra parte c'era solo il caricamento di bombole di gas ad uso familiare. Se quei serbatoi fossero esplosi presumo che neanche noi saremmo, almeno io non sarei qui a parlarne con voi. A 15 anni di distanza qual è il monito che lascia la vicenda Butangas? Quello che abbiamo vissuto deve essere scuola per il futuro. Mai più aziende a rischio in zone in prossimità dei centri abitati perché poi vengono inglobate nel centro abitato stesso, moltiplicando l'ennesima potenza dei rischi. Questo è il messaggio che è stato a Butangas, questo è il messaggio che dobbiamo trasmettere alle nuove generazioni. Non è stato semplice poi ritornare al lavoro? No, non è stato semplice soprattutto a livello psicologico, però un po' alla volta si cerca di superare. Per voi Vigili del Fuoco di Treviso, quella giornata cosa ha significato? Un grosso dolore sia per noi che per la popolazione del Paese. E cosa secondo lei deve rimanere come insegnamento? Che salve e prevenzione su tutti i lavori.